Buonasera, professor Orsini. Lei sa quanto la stimi io, dottoressa Salone. Ma con Salvini e Bersani e Conte, io rido. Rido. Con la Nato, io piango. Ah, per dire che... Io credo che la società dovrebbe fare più attenzione ai miei stati d'animo. Ma non credo, è che... All'ONU, prima di assumere ogni decisione, dovrebbero prima domandarsi che fa Orsini, ride o piange? Ma no, ma non penso proprio che... Perché io sono uno studioso. Sì. Ho letto, so tutto. Cosa? Sono sceso sulla terra proprio per offrire la mia onniscienza a chi non crede in me. Certo, sei sceso sulla terra. Solo chi crede in me viene introdotto ai misteri della storia. Oh là là, ad esempio... Ad esempio. Eh. Nessuno sa che Hitler non voleva fare la seconda guerra mondiale. Ma come no, ma... Lui ha invasso la Polonia perché aveva prenotato l'agriturismo Lewandowski. Ma cosa dice? E aveva detto, tavola lunga, perché saremmo un eserci. No, sono stupidaggi. Anche lei adesso poi è fissato con Hitler. Non bastava Lavrov, no? Che ha detto che è ebreo. Lei sa quanto la stimi io, dottoressa Zalone. Non sono dottoressa... Ma Lavrov non sa un beato nulla. Beh, insomma... Se avesse chiesto a me, ti avrei detto la verità. Eh. Cioè che Hitler era giamaicano. No, no. Fino a novembre del 1923 suonava i bonghi nelle birrerie. Ma quando, ma... In quella di Monaco lo hanno messo in mezzo. Ma cosa sta dicendo? Non può dire... Perché interrompe la mia lezione di storia. Perché fa questo? Perché, dottoressa Zalone, che io la stimo tanto, quando dovrebbe solo prendere appunti. Intanto io non prendo appunti. Il generale Caster era a pelle rossa da parte di nonna. No, senta... Hiroshima è stata una fuga di gasta a un condomino. Ma no, senta, guardi... I kamikaze di Billaden volevano atterrare. No, no. Ma c'era la pista occupata. No, no. Pompei. Senta, Pompei è stato il vulcano. Aspetti, Zalone, aspetti, non mi interrompa. Certo, è stato il vulcano. Ma se lei avesse studiato un milionesimo di quello che ho studiato io... Io non lo faccio. ...saprebbe che il Vesuvio ha solo reagito ad una provocazione di Plinio il Vecchio. Ma cosa sta dicendo? Che aveva allargato a est le catapugnute. Eh sì, certo. Fino al confine con Ercolano. Ma non è possibile. La prego, non mi interrompa, Zalone. No, io non la voglio interrompere. La prego. Va bene. Se lei sapesse la storia che so io, che conoscesse quello che so io... Però lei la sta ribaltando, la storia. Cosa insegna ai suoi allievi? La verità. No. Insegno la verità. No, se dice queste cose... La spedizione dei mille era nata come crociera turistica. No, senta, guarda. Dovevano sbarcare a Charmaine Sheik. Sono finita Marsala per un disguido con Airbnb. Ma cosa sta dicendo? No, se... Voleva solo dividere le acque tra naturale e gassata. Ma che gassata? Atlantide, c'è un buco. Ma che la smetta di dire? Non posso smettere, sono un professore e non ho paura di dire la verità. Ma non è la verità. Quando vedo che fanno i titoli dei giornali con le mie frasi, io rido. E infatti sembra un po' che... Io piango. Ma infatti è un po' quello. Giussacro Gale era un servizio da otto. Ma cosa? Papa Giovanni era musulmano. Eh sì, ciao. Matteo Renzi è di sinistra. Ma cosa dice? No, infatti, questa è una cazzata troppo grossa anche per me. Grazie. Grazie.